bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy allora erano rimasti che dovevano fare la scelta di consegnare il nostro principe oppure difenderlo ma affrontare una battaglia feroce contro quella tizia sicuramente ci farà il culo allora partiamo dal presupposto che tra gli archivi e formazioni penso che sia questi sono quelli nuovi a chi a parte che non ha senso perché se consegniamo ronald quello lì che se sacrifica da fare non si sa quindi comunque non lo ucciderebbe ma perché vuole una taglia vivo non lo so ecco questo è quello che cercavo esiste un meccanismo pensato per sterminare eventuali invasori queste informazioni non sono confermate ok sarebbe deleterio anche per la popolazione allora del tipo faccio fuori metà della mia popolazione per salvare sto principe perché molto probabilmente questo meccanismo sarà anche devi bruciare qualcosa però c'è la possibilità di vincere con questo meccanismo anche perché voglio dire pure che lo consegniamo che succede che poi ci faranno fare ci faranno combattere con altra gente che sicuramente era a favore nostro quindi non lo so ah fammi vedere è un'aumentata di livello nel frattempo ah 10 ho potuto quasi tutti i 10 penso che a 10 si oh spera fammi andare al campamento si poteva aumentare di grado dove era questo a 100 se ne ho solo uno e mille di soldi tronzi e che aumento? non mi fa le statistiche qualcosa per vedere cosa aumenta no così così a culo ah io questi qua si a mentire lì ah perché questo non me lo sblocca? ah questo mi chiede un'altra cosa pietra indistruttibile ah ecco quindi l'argento può fare solo questi ok allora tra tra il protagonista e Anna io cerco Anna mi piace? ah ecco ah ecco ah ecco ah ecco ah ecco Il ferro ne vuole sì Inventario, mi sembra che ho altri lamenti Ma guarda, ho altri oggetti? No Ah, quindi questo è come se fosse La magia che fa Benedito Ma lo puoi fare tu con La sua, l'ho capito Mai visti? Ok Vediamo il mercante Che possiamo comprare Antitenebra Eh, mutismo Penso proprio di sì Sennò ti attacchi Non ho tutti i soldi? Oh, c'è il fulmina Allora devi prenderne due Per ciascuno Allora 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 Eh, 2000, mamma mia Panellino dorato che è? Bella questa Il mio prossimo acquisto sarà questo Chi dàglielo? Non lo so Ah, lo potevo comprare questo? Ah, mi so che mi conviene che mi faccio Vediamo se è uscita qualche altra battaglia Ah, 2000 Allora, io Penso di perdere un po' di tempo Vale arrivare a 10 tutti Poi magari prendermi qualche oggetto E portare Più cose Tipo vita, roba varia E poi affrontare la missione finale Perché Sono convinta che bisogna tenere il principe Quindi, ciao Come un' abajo Allora Allora le riacerie fanno fuoco abbiamo un mago che fa fuoco un altro che cura dobbiamo togliere qualcuno per mettere questi un altro di ghiaccio ci vuole perché quelli sono di fuoco un altro che Ok, ok, ok. Sì, non ti farai mai. No For the honor of House Wolforge Death from above Let us pry out their weakness A brief respite This is wonderful Time for some sourcing Wind Capisco perchè se la prendono sempre con lei Go quick Splendid Time for some research Freeze Freeze Yes Very effective You came, you missed Sound strike Sound strike Sound strike Out Use Sound strike Sound strike Sound strike Sound strike Sound strike Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, devo far fuori il mago perché mi sta leggermente sulle scatole. Grazie a tutti. 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 Blocca ombra. Grazie a tutti. 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 su qualcosa, ma non penso. Ah sì. A posto. Lei ci volevo prendere qualcosa per il movimento a questo che va troppo lento. Alla prossima. No, dove ce l'avevo? No, questo è un altro ancora. C'è un anello del vigore vuoto, mi sa. Sì, ce l'hanno uno vuoto. Ok, vediamo chi ha double di vita. Alla prossima. Vediamo che va bene così. Ok. Vediamo che va sta scelta. Ok, allora dobbiamo far cambiare idea. Allora. Ok. 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 Mi piace questa. Ok. 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 Sara Noah sicuramente però ricordi niente noi ci proviamo a far convincere la gente ma non niente si tagano ma perché io sblocco sto meccanismo ma non mi danno retta no interesting indeed so ok questo sì mi piace oh almeno questo sembra che forse meno male che c'è Anna in that case I need time ok I am sorry forgive me my lord you aren't wrong but my apologies the scales of conviction will illuminate the path we've chosen no no ma io non volevo ma che è sta cosa ma perché io voglio combattere questi bastardi che non mi danno retta ma perché ma vaffanculo la biancia ma perché non volevo ma ti ho pure aumentato la vita mi hai fatto spendere soldi per niente che due palle ma perché io volevo fare il contrario salvo salvo in un altro punto che schifo mi faccio scrivo da sola non volevo ah ma vediamo che ti chieda che gli hai consegnato il principe che è figura di marda bene bene quindi sono diventati territorio tutto di quello non ricontrasta più nessuno l'abbiamo per rimanere loyali al loro fuori king. La notizia della capitulazione dei countrymen ha scoperto Lord Landroy, lasciando lo con una scuola grave a fare. I've brought the Prince, Your Grace. Hmm. Gustadolf, you traitorous Beth! You'll pay for what you've done to my family! Mark my words! Gah! Easy there, Flora. We need him. I am sworn to do all in my power to keep you... The boy is overcome with emotion, and who could... Cordelia! Brother! Let him go! Indulge her, Flora. Oh, brother! Thank the heavens! They didn't hurt you, did they? I'm fine. I... I thought I'd never see you again. Let us speak after. Surely the Archduke will afford us that small mercy. Yes. Prince Roland. You were well aware of the position. Your kingdom is ours. House Tellior and House Wulford have both been the knee. Among the three high houses, only House Folks still proves... ...ricalcitrant. Quindi ci manderà a noi? Do you mean for me to convince Lord Landroy to submit? Oh, nothing so tedious as that. I want you to order his death. I'm certain House Wulford would be more than happened to charge. You're mad! I won't be a mouthpiece to your cruelty. I know you've only just come into your responsibility. So allow me to offer a word of advice. A prince's first... What are you saying? Landroy will not stand idly by for long. When he acts, an act he will. This land will once again be consumed by the fires of... It is your duty, as prince, to quench that fire while it is yet kindling. Lest you rule over a kingdom of corpses. You see that I am right, your highness. Ma perché io lo volevo salvare? Non volevo sta cosa. Ma perché io lo volevo salvare? No ve best were part of it. Thank you for agreeing to see me. My name is Yulio. So, you're looking to pledge your service to us, eh? They tell me you're from the Crown City. I'm afraid so. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 mio lord, tu hai la mia wille vediamo che fa questo a a l'ho l'ho ad I do wish you'd learn to temper your vices, brother. And I wish you'd learn to... Well then, what is it? We leave for the Falks domain at once. I thought those Wolfhort dogs were to do the deed. Why must we go? You really must use your head more often. When have you ever known a dog to be obedient without some good measure of discipline? Indeed. Very well then, dear sister. I'm going to go on. Vediamo chi dovremmo sconfiggere. Una cera? It's true, my lord. House Wolfhort has delivered prince... And House Tellur... My lord. My good man. When you look at this painting... It is our home. As beautiful and verdant in reality... Indeed. It is a treasure, our land. An honor without equal. A duty... A duty I will not shirk from. Per fare cosa? Non si sa. Non si sa. Ancora non si fanno vedere. Certo, ormai siete i loro cani. Non è vero che l'Archduke ha poco rispetto per l'honore tra le famiglie. Viene la terra falsa come un frutto per... Un'altra che si prenderanno per loro. Il decreto è stato scritto nella propria mano di Prince Roland. Lies! La sua mano è stata forza! Inoltre, dal mio fratello. E se si disabili, l'Archduke avrebbe buona ragione per fare un esempio di noi. Eh, per quello lo volevo battere al subito? E come? Che sarebbe? Votiamo. Ancora questo conflitto, lo devi fare il conflitto. Ancora... ... 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 per mantenere l'ordine e l'harmonia nella vostra domanda, ma anche il più admirabile. Al fine del giorno, la nostra duty è per il trono, non per il manco che lo siede. In tempi di incertezza, dobbiamo valutare l'ordine. Vedo il merito in questo. Lo ha fatto bene, e non ho dubbato, molti anni di fuori di fuori, mio signor. Grazie a tutti. 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 Ok, così abbiamo tutti e due riparati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. No, aspetta. fammi salvare perché io voglio comprare quello per far andare più veloci i nostri personaggi per far andare più veloci ok basta non ho più soldi, non posso fare pieniande S-frosty forces muster at the border they're preparing to advance S-frost while we were preparing for the parley they snuck up on us unaware what shall we do my lord so the Wolfert dogs have already learned some tricks from their new master, eh? we await your command, my lord split our forces in two send one regiment to the border I shall lead the other to meet House Wolfert in the field aye, my lord we'll defend King Regna's gift until the last of us falls the history shall know that house the history shall know that house I have nowhere else to go where are your parents? they died years ago my lord my name is Sarah Noah what's your... picoletta picoletta? you throw that ball with such skill because it's my job when I throw this ball well, I used to but the circus is gone now so I'm all my... what are you doing here, mister? we're trying to put an end to this war I hate war war made everyone go away you're really gonna end the war? then let me go uh... I can throw my ball and help you fight the bad people I know but before we go fight the bad people let us fill our bellies after that perhaps you could show us some tricks with your ball sure thing that's what I'm best at so I feel like I have no idea what do I have to do? I have to fight for the... and I have to fight for the... the castle... that's what I have to do but it's not stuck here when I'm back when I'm back Tutto? 11. Bisogna essere di livello. Dov'è la bimbetta? Eccolo. E' a livello 9. Eppure questo è a livello 9. E' a livello 9. E' a livello 10. 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 Sì, sì. shall we begin i'll take it from here allow me come on most interesting profit comes to the prepare this is it for you now it's my turn here goes well congratulations are in order forward now i end this that hit the mark let the shop begin you've left yourself open to lead i must grow i'll take you on look to my shield let me heal your wounds i'm behind you i'll take it from here let me show you what i've learned yes we can win hello me now then to work a cold wind blows you cannot impede progress come on then this might sting have another for the honor of house small fort i shall do what i can i'll take it from here whatever it takes Grazie 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 Ah ok quindi puoi averne solo uno di sostituto Non ne puoi chiamare più di tanti Grazie Grazie Bene ragazzi si è fatta una certa ora Io chiudo qua il video Farò salire Quegli altri a livello 11 E poi faremo questa battaglia E vedremo come andrà a finire Io volevo scegliere di tenere il principe Ma evidentemente da come ho risposto alle domande precedenti L'ho sacrificato per il bene del popolo E poi tra l'altro Fino a un certo punto Perché ora mi mandano in guerra contro un altro Che è praticamente una casata affine alla nostra Quindi ci troveremo comunque a fare la guerra Solo che invece di farla subito la fai più avanti La spostata di un paio di settimane Va bene Se vi è piaciuto il video mettete un like Se volete vedere come continuare la storia Iscrivetevi al canale Ciao 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 ciao